Due vittorie consecutive hanno rilanciato in classifica il crotone di mister Lamberto Zauli che presto vuole tornare in Serie B. Vittoria sulla Forte Catania in casa, squadra costruita per vincere il campionato e poi quattro gol in casa della Turris. Sabato si ritorna allo stadio Zoscida per la ventiduesima giornata di campionato dove, di fronte, vi sarà il Virtus Francavilla, squadra che lotta per salvarsi. Ci siamo sempre detti che la classifica in questo campionato è molto tutto equilibrato lascia il tempo che trova, quindi avere un punto in più, un punto in meno oggi essere secondi, terzi, quarti quando si parla sempre di un punto, due punti di differenza lascia il tempo che trova, non ci concentriamo su questo noi stiamo andando dritti, la squadra ci crede, sta crescendo, lotta, gioca, fa gol quindi dobbiamo fare di tutto noi dello staff per far continuare a credere questi ragazzi poi mancano adesso 17 partite, il giorno di ritorno cominciamo a scalarle, sono ancora tantissime, quindi si gola basso, campionato molto difficile, tante squadre forti che ambiscono i primi posti, ci vogliamo essere anche noi, però la strada è ancora molto lunga. Adesso la parola al capitano William Gigliotti Sabato sarà una partita assolutamente da non sottovalutare perché saremo dei pazzi a pensare che sarà una partita meno dura della Turis o del Catania perché secondo me sarà la peggiore dell'anno 2024 per noi, quindi dobbiamo stare concentrati, con la testa giusta, è come se fosse, anzi sarà una partita decisiva per noi, quindi affrontarla nel modo migliore per andare a vincere. Una gara molto dura, loro si devono salvare, quindi si giocheranno da oggi fino alle ultime partite tutte finali per loro, ma sarà la stessa cosa per noi, quindi chi avrà più vuoi e chi avrà più cuore e più testa vincere la partita, ma noi non vogliamo assolutamente abbassare il ritmo che abbiamo dimostrato nelle prime due partite, quindi sarà una partita tosta per loro soprattutto. Servirà tutto quello che abbiamo messo nelle prime due partite di quest'anno, sono sottovalutare nessuno, giocare come se fosse l'ultima partita dell'anno e soprattutto credere, credere su ogni pallone, ogni azione, credere che sia quello decisivo e facendo così abbiamo dimostrato che abbiamo vinto le prime due partite, quindi questa sarà la chiave secondo me del successo di sabato. La pressione è un po' soggettiva, chi la soffre di più, chi di meno, quindi diciamo che nello spogliatoio siamo tanti giocatori che riescono a gestirla, magari quelli più giovani, pochino di meno, però non si è fatto risentire. Magari nelle prime partite, quando andavamo male, sì, però adesso che stiamo più o meno in fiducia, chi magari era in difficoltà sta uscendo e quindi la pressione, ci vuole la pressione, quindi è una pressione positiva per noi e riusciamo a gestirla abbastanza bene, secondo me. Il consiglio che ho sempre dato ai giovani è di mai gestirsi in allenamento, sempre dare il massimo, essere concentrato dall'inizio alla fine perché il nostro mestiere è un lavoro che dura un'ora e mezza, due in campo, quindi quel paio d'ore che abbiamo dobbiamo sfruttare al meglio e è quello, se stai concentrato con la testa riesci a fare cose che magari ci possono essere più persone, magari più bravi di te, con le gambe più veloci, però se tu sei sveglio, se sei più bravo con la testa, fai più strada.